Prima di tutto auguri caro Mario Girotti, anche se detta così forse a tutti non fa cogliere che stiamo parlando del grande Terence Hill. Il cognome l'ha preso dalla moglie, perché a un certo punto, quando nascevano gli spaghetti western in Italia, non si poteva chiamarsi Mario Girotti, era necessario chiamarsi ad esempio Terence Hill. Con quel nome esotico ebbe un successo pazzesco. Però pensate, l'aveva scoperto a 12 anni, mentre nuotava un cerdo Dino Risi, che faceva un film sui gangster e voleva questo ragazzino fra gli attori. Si era accorto di lui anche Visconti, che lo volle nel Gattopardo. E a posito della piscina, pensate all'ironia della sorte, in piscina era nato anche Carlo Pedersoli, grande campione di nuoto, poi Bud Spencer, che costruiscono a Terence Hill la grande copia del cinema italiano. Successi clamorosi in quegli anni, i registi cambiavano, loro restavano. Qualcuno con una battuta dice, comunque continueremo a chiamarlo Trinità. In realtà adesso lo chiamiamo Pietro, come il forestale che vediamo impegnato sulle montagne, proprio qui vicino all'Alto Agile da dove vi parlo, o lo chiamiamo magari Don Matteo. Il suo segreto, lo dice lui stesso, è quello di portare un cappello. Pare che a consigliarglielo fosse stato niente po' di meno che Sergio Leone. Diceva, se metti un cappello diventi un attore indimenticabile. Ebbene, non so se sarà felice oggi di sentirsi fare gli auguri per gli 80 anni, visto che ne dimostra molti di meno. Ma nei suoi 80 anni ha percorso tutto il cinema italiano, è passato dai grandi autori agli spaghetti western per arrivare alla grande fiction televisiva. È un uomo che è riuscito a resistere al tempo, con quei suoi occhi ceruli, con quella sua capacità anche di guardare l'Italia in modo disincantato. Lui che aveva origini tedesche, che durante la guerra era stato nella zona di Dresda, nella zona bombardata, era sopravvissuto per miracolo. Lui che ha vissuto per tanti anni in America, lui che però racconta l'Italia come una persona che l'attraversa in bicicletta, con il cavallo o con molti mezzi per vedere come stiamo cambiando.